buongiorno cari amici di montediprocita.com eccoci al museo archeologico dei campi il fregrei qui nel cuore dei campi il fregrei ieri sera abbiamo avuto un evento molto particolare prima di parlarvi di quell'evento di ieri sera voglio dirvi che questo è l'ultimo weekend conclusivo del progetto art explosion l'arte che si racconta nei campi fregrei ieri mattina sulla d'arsena di pozzuoli abbiamo potuto ammirare degli artisti che si diciamo ci hanno deliziato con delle loro esibizioni live sul progetto yes we street ieri sera invece abbiamo avuto le meditazioni mediterranee un grande evento come l'ha definito lo stesso marco nereo rotelli un viaggio che adonissa fatto nel nostro nel nostro mediterraneo e focalizzandolo soprattutto sui campi fregrei è stata una serata che ha visto l'incrocio tra arte musica infatti c'erano come ospiti fazzi delmi perché adonissa ha avuto dei gravi problemi di salute per cui non poteva essere con noi e fazzi è il traduttore italiano poi del di adonissa che leggeva dei versi in arabo gli faceva compagnia poi da spalla un po sabrina colle artrice affermata e sottofondo musicale c'era francesco derrico che col suo trio di contrabbasso e batteria dava quella colonna sonora giusta all'evento un evento che ha visto l'illuminazione proprio abbiamo illuminato l'intero castello di baia e c'erano delle installazioni luminose fisse con diversi appunto di adoniss e le altre i pochissimi c'erano più di 200 persone ieri lì nel cortile mezzaluna del del museo archeologico di baia quelle altre persone hanno potuto apprezzare uno spettacolo che ha visto proprio i versi di rotelli che venivano scritti proprio in contemporanea con la lettura appunto di questi versi da sabrina colle di fazzi al delmi è stato un evento favoloso e poi questa mattina invece abbiamo avuto la conclusione qui sempre al museo archeologico di baia quindi il finissage della mostra la danza nel tempo abbiamo potuto apprezzare poi ovviamente tutte le opere che rotelli ha diciamo gentilmente donato questa mostra si chiude qui l'esperienza di arte esposione si chiude qui e vado a vedere se rotelli può dirci due parole giusto per salutarci questa mattina il finissage della mostra della danza del tempo e abbiamo qui il responsabile colui che ha creato quello che poi ha adesso è il focus di questa mostra che marco nereo rotelli due parole marco più che responsabile sono irresponsabile nel senso che all'arte non è data questo compito di essere responsabile però nella irresponsabilità dell'arte accade un po come accade nei sogni cioè di essere liberi di di essere dove si vuole e un po è l'idea che ho cercato di trasmettere con queste installazioni luminose c'è un senso di ripresentare dei luoghi che voi conoscete benissimo perché sono sotto i vostri occhi con una luce diversa che ne apre il senso e in vita e lo stupore grazie ringraziamo marco e va beh gli diamo appuntamento ad un prossimo progetto che speriamo farà sui campi fegrei grazie piacere nostro grazie a tutti e arrivederci